Non date retta alle mezze pippe dei Novax, vaccinatevi. È categorico il governatore De Luca a margine della presentazione delle 250 nuove assunzioni all'AIR, rivolgendosi agli autisti dell'azienda di trasporti. Chi non è vaccinato non lavorerà. Il messaggio è chiaro, non è che abbiamo qualche mezza pippa che ci viene a dire i Novax, i Novax. Vaccinazione obbligatoria per la tutela della vostra salute, perché sui pulmon arrivano centinaia di persone, delle vostre famiglie, e anche perché si apre il nuovo anno scolastico. Sulla campagna vaccinale serve un ultimo sforzo, con 40.000 vaccinazioni al giorno, a ottobre ci riprendiamo la vita. Se ci impegniamo per due mesi, cioè settembre-ottobre, noi a fine ottobre usciamo da questo calvario. Non c'è da fare niente di straordinario. Solo vaccinarsi tutti, vaccinare i ragazzi che cominciano la scuola in presenza e ovviamente avere le norme di prudenza indispensabili. L'uso della mascherina e il distanziamento. Se facciamo solo questo, noi a fine ottobre ritorniamo alla vita normale. Credo di dover chiedere a tutti i nostri concittadini uno sforzo straordinario per completare la campagna di vaccinazione. Nelle ultime 24 ore intanto è risalito il tasso di positività al 2,79%. I positivi sono 531 su un totale di 19.000 tamponi e si contano 13 morti.